Buonasera, nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Alle 8 circa di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta dei carabinieri a canale di Valle Incrocio, Vicoli dei Fiori, a Chioggia, dove è stata recuperata la salma di una donna anziana. I pompieri del locale di staccamento hanno recuperato il corpo senza vita che si trovava all'interno del canale. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Si tratta di una donna di 80 anni che risiedeva poco lontano da dove è stato rinvenuto il corpo. Dagli esami effettuati apparentemente non ci sarebbero segni di violenza che quindi potrebbero far apparire una morte violenta. Dunque l'ipotesi più probabile è che la signora sia uscita questa mattina molto presto e mentre faceva una passeggiata sia scivolata nel canale. Il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina in audizione in Commissione Ambiente alla Camera ha parlato dei danni subiti da numerose regioni italiane a seguito del maltempo delle scorse settimane. Sono 11 al momento le regioni che si apprestano a richiedere lo stato di calamità a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche. Ricordiamo tra queste anche il Veneto. Siamo pronti, ha detto il ministro, a rispondere con tempestività assicurando l'attivazione degli strumenti del Fondo di Solidarietà Nazionale. Numerose famiglie nella notte sono state svegliate e fatte uscire di casa per un incendio scoppiato nel garage di un condominio. È successo in provincia di Venezia. Paura in un condominio di Salsano in provincia di Venezia. Nella notte è divampato un incendio in un garage. Fiamme e fumo hanno costretto tutti i residenti della palazzina a uscire dallo stabile a titolo precauzionale. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Mestre che hanno provveduto a spegnere il rogo, evitando l'estensione delle fiamme all'intera struttura. Presenti i carabinieri di Martellago, la causa dell'incendio al momento non è nota e dovrà essere stabilita dagli accertamenti. Numerosi invece i danni subiti dall'edificio nella parte interessata dal fuoco. Parliamo dell'emergenza a caldo. L'intero sistema territoriale ospedaliero della Sanità Veneta è stato attivato per fronteggiare la necessità di assistenza alle persone che dovessero accusare malori o aggravamenti delle patologie pregresse causate dall'ondata di caldo che sta interessando l'intero territorio veneto. L'assessore regionale alla sanità ha attivato in proposito lo specifico protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature. Si tratta di un protocollo che già dal 2004 garantisce in queste circostanze una serie di attivazioni sanitarie e di particolari attenzioni. Al momento, riferiscono i responsabili del suo M118, in Veneto non si registrano picchi nelle chiamate per gli interventi. Un aumento è comunque atteso da oggi perché più giorni di gran caldo passano più aumenta storicamente il numero delle richieste di aiuto. Particolare attenzione nell'ambito del protocollo viene posta agli anziani, ai diabetici, agli ipertesi, ai bambini piccoli da 0 a 4 anni, a chi soffre di malattie venose e non autosufficienti, a chi ha patologie renali, a chi è sottoposto a trattamenti farmacologici importanti come ad esempio la chemioterapia. Ci spostiamo a Verona dove caccia agli evasori delle tasse e abusivi nell'ambito dei bed and breakfast. Due mesi di controlli serrati nella città scaligera hanno evidenziato delle situazioni di particolari irregolarità. Sentite. Caccia agli abusivi dei B&B a Verona. La Polizia Municipale a giugno e luglio ha eseguito una serie di controlli per un totale di 132 verifiche, delle quali 17 immobili ispezionati con verifiche effettuate sul posto, 115 verificati con indagini attivate presso le banche dati della Polizia Municipale. Nell'ambito dei controlli sui corretti pagamenti della tariffa rifiuti invece è stata individuata una società che, nonostante gestisse a locazione turistica 30 immobili per un complessivo di 39 camere e circa 100 posti letto dal 2014, per una parte di esse non ha mai presentato alcuna denuncia a Tari e per la restante parte ha pagato solo la metà dell'effettivo dovuto denunciando le strutture come prima casa utilizzati per fini residenziali. La totale illusione della stessa imposta è stata accertata a carico di altre 14 unità immobiliari controllate. Infine 13 strutture sono state segnalate all'Agenzia delle Entrate per discrepanza dell'imposta di soggiorno versata. Dobbiamo parlare adesso di una tragedia della strada. Ha perso il controllo della moto che stava guidando ed è finito fuoristrada. L'incidente è avvenuto nella notte a Malo in provincia di Vicenza. Uno schianto apparso grave da subito. Luca Diretti, 19 anni, è stato portato all'ospedale ricoverato ma le sue condizioni erano troppo gravi. Alcune ore dopo è avvenuto il decesso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Schio intervenuti per i rilievi, il giovane in sella alla moto stava percorrendo la strada che conduce al centro del paese. Per cause in corso di accertamento improvvisamente ha sbandato sulla destra ed è finito con le ruote sull'erba al lato della strada. Ha impattato prima contro un albero, dopo contro un palo della luce. Sarà aperta al pubblico il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 18. Stiamo parlando della nuova sede padovana della Polizia Locale. è stata inaugurata oggi nel quartiere Arcella in via Tiziano Aspetti 235. Nella prima fase l'edificio, l'ex filiale di una banca, ospiterà 20 agenti ma l'obiettivo è di portare il presidio a 30 unità in pochi mesi. Gli agenti useranno questo spazio per montare e smontare. Non ci saranno persone ferme qui tutto il tempo, ha spiegato Lorenzo Fontolan, comandante della Polizia Locale. Negli orari di apertura ci sarà sempre un agente e i cittadini potranno contattare un operatore per prendere un appuntamento fuori orario. I quartieristi a piedi, i motociclisti e gli agenti di sicurezza urbana non compriranno solo l'Arcella ma anche una parte del quartiere 3, del quartiere 6 con servizi di rinforzo 4-5 volte al mese. E restiamo ancora a Padova, parliamo delle famose telecamere installate ai semafori, stiamo parlando dei T-RED, probabilmente entreranno in funzione entro la prossima fine di settembre. Entreranno in funzione probabilmente alla fine di settembre i famosi T-RED installati ai semafori di Padova. Molti automobilisti probabilmente credevano che l'occhio elettronico fosse già in funzione da tempo ma la burocrazia spesso è troppo lenta. Così un sistema destinato alla prevenzione e repressione di chi non rispetta le regole risulta pronto ma fermo. Si tratta delle telecamere installate sui semafori che dovrebbero immortalare e punire chi dovesse passare con il rosso. Non saranno però attivati i monitor dei countdown, il conto alla rovescia tra rosso e verde. Sembra che ci sia un'incompatibilità con gli incroci e quindi dovrebbero essere rimossi e installati in altri punti, forse pedonali. Il Comune di Venezia ha assunto a tempo determinato fino a novembre 29 vigili urbani, 5 dei quali donne che verranno dedicate in particolare alla tutela del decoro della città mentre altri 70 a tempo indeterminato con contratto di formazione e lavoro saranno in servizio entro il 31 agosto. È quanto ha deciso il Comune di Venezia che oggi ha tenuto a battesimo i nuovi agenti per contrastare i bivacchi e malcostume in centro storico. Fenomeni ne abbiamo sentiti davvero in questi giorni. Da Ferragosto a fine ottobre in collaborazione con l'associazione Piazza San Marco ma con una spesa di 120 mila euro sostenuta dalle casse comunali sarà riproposta l'iniziativa dei 15 Guardians che svolgeranno azione preventiva e informazione nell'area marciana. E adesso parliamo della Polizia di Stato che insieme alla SEAT, la grande casa automobilistica, è stata impegnata in pista. Una giornata all'insegna della sicurezza con i piloti che hanno svolto dei corsi agli istruttori delle volanti. Guardate. Si è svolta presso il circuito di Franciacorta la giornata di formazione per gli istruttori di guida del Corpo di Polizia di Stato promossa dalla SEAT. Fedele al proprio impegno, la casa automobilistica ha tenuto su richiesta un corso di guida che ha coinvolto gli istruttori della Polizia di Stato delle questure di Roma, Milano, Padova e Verona in un susseguirsi di nozioni teoriche in aula e poi pratiche. Esercizi che si sono svolti in pista con gli istruttori alla guida delle proprie volanti insieme ai piloti della SEAT. Due anni sono passati da quando l'azienda si è aggiudicata la gara d'appalto per la fornitura delle auto alle forze dell'ordine, fornite circa mille vetture che hanno ringiovanito il parco auto delle volanti. A giudicarsi la gara pubblica per la fornitura delle auto per le forze dell'ordine italiane ha richiesto di apportare alcune peculiari modifiche alla SEAT Leon, rendendo le condizioni e le modalità di guida delle volanti ben diverse da quelle di una vettura di serie, con dotazioni assolutamente particolari ed esclusive. Il corso di guida che si è svolto a Franciacorta nasce dalla necessità di aggiornamenti e specifici approndimenti. Una migliore conoscenza del prodotto, così come il corretto funzionamento di utilizzo dei dispositivi e l'applicazione delle nozioni sulle vetture della Polizia di Stato in un contesto adeguato e in completa sicurezza era alla base dell'incontro di formazione. Il Super Enalotto rende milionaria Caorle, in provincia di Venezia, con un 6 da 77,7 milioni di euro registrato presso il punto vendita Sisal di Viale Santa Margherita. La vincita è stata realizzata con una schedina semplicissima da 4,50 euro. È la seconda vincita con 6 del 2017. È il settimo premio più alto mai assegnato nella storia del Super Enalotto. La sestina vincente è stata rappresentata dai numeri 1, 8, 28, 54, 82, 90. Jolly 5, Superstar 25. Il 6 mancava dal 25 febbraio 2017, quando è stato vinto e centrato un altro 6 a Mestrino, in provincia di Padova. Adesso parliamo di clima. Temperature elevate e caldo a foso che non concede tregua. Il record verrà raggiunto nella giornata di giovedì, con la previsione del bollino rosso in 26 città italiane. Il caldo però resterà a farci compagnia almeno fino alla fine della settimana, per quel che riguarda la regione Veneto. Versione termica in tendenza da domenica pomeriggio, per rovesci e temporali più probabili sui rilievi o le zone limitrofe. quindi avremo ancora delle giornate molto calde e affose. Continueremo a seguire naturalmente tutti gli aggiornamenti. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.